Continua la tredicesima edizione di Palchi Diversi, dedicata quest'anno al compianto Marcello Perracchio, con il frizzante e appassionante spettacolo L'amore di Pappagheno e Pappaghena. Ritorna così il tradizionale appuntamento per l'epifania della compagnia Godot di Ragusa, diretta da Vittorio Bonaccorso e Federica Bisegna, che chiude in allegria le festività natalizie. Sabato 6 e domenica 7 gennaio alle 18.30, sul palco del Teatro Ideal di Ragusa, andrà in scena il divertente spettacolo tratto dal flauto magico di Mozart, con il libero adattamento di Federica Bisegna e la regia di Bonaccorso. Sulla scena i giovani talenti Giuseppe Arezzi e Federica Guglielmino, che interpreteranno i due protagonisti, Pappagheno e Pappaghena, intorno al quale roteranno altri simpatici personaggi, divertenti e spiritosi pupazzi realizzati dallo stesso Bonaccorso. Lo spettacolo racconterà di un rapporto contrastato, ma basato su un amore profondo, una favola che attraversa tantissime vicissitudini, ma che alla fine riesce ad arrivare al lieto fine atteso da tutti. Un po' come accade nella vita quotidiana che ci riporta a lottare per guadagnarci la fiducia, il rispetto, l'affetto e l'amore degli altri. Da qui il pretesto per raccontare per grandi linee, attraverso il teatro di figure e quello di narrazione, commentano Vittorio Bonaccorso e Federica Bisegna, tutta l'intrigata storia con i vari personaggi, da Tamino a Pamina, da Sarastro alla Regina della Notte a Monostatos, e per raccogliere e sottolineare i messaggi che se ne possono trarre due su tutti. La trasformazione di un uomo rozzo, ignorante e debole, in un uomo saggio e gentile, grazie all'amore e alle prove che deve superare per ottenere la stima dell'amata, e la consapevolezza che il bene e il male non sempre sono rappresentati per quello che sono, e che talvolta sono soltanto i due lati della stessa medaglia, a sublimare il tutto le immortali note del genio assoluto di Mozart. La compagnia Godot sarà poi impegnata al teatro comunale Perracchio di Ragusa, ex Quasimodo, il 20 gennaio alle 21 e il 21 gennaio alle 18 con lo spettacolo Pirandelliana, con la straordinaria partecipazione dell'attore Massimo Venturiello. Un grande omaggio a Luigi Pirandello, che la scorsa estate ottenne già un grandissimo successo di pubblico durante la rassegna estiva, è stata al castello, appunto al castello di Donna Fugata. Grazie a tutti.